Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo appuntamento con Resident Evil 2 Ci eravamo appunto lasciati qua e avevo già preso più o meno tutto quello che mi occorre E io adesso direi di andare giù, anzi non di andare via perché non penso adesso... Torniamo, non sapete chiaramente che noi torneremo qui Intanto controllo che qui su OBS vada tutto bene, quindi se ogni tanto mi volto lo sapete perché Adesso ci stiamo dirigendo nelle fogne, qui è buio pesto, non si vede un ciolo, non si vede nulla Ecco, noi adesso dobbiamo andare di qua perché andare di qua è troppo presto C'ho qua il ventilatore ragazzi che ho dovuto riaccenderlo almeno in modalità diciamo piccola E' arrivato il Birkin Andiamo dal Birkin, dove sei? Ma com'è che questo ansima? Non è che è giusto ansimare quando si corre però Ma non corri, non corri neanche, quindi cosa cazzo ansimi? Che manco corri Leon Eccoci qua, dai che arriva il nostro amico William Willy? Dov'è Willy il principe di Bel Air? Almeno doveva arrivare qua E infatti! Mi ricordavo bene Eccolo qui, ciao William Ciao Willy Oddio, oddio Che schifo Oddio Che dolore immenso Atroce Oddio Allora Allora Il trucco Il trucco è mirare all'oro Il trucco è acquisire una posizione di vantaggio E io non la sto acquisendo mai Allora Devo andare Ecco qua che ci sono le cose che mi possono servire Mettiamole qua Ok Speravo in una granata frammentazione No, no Neanche quella Allora Ecco Devo far così Allora Stordiamolo un po' E prendiamo Mi è arrivato un messaggio Non so chi sia No Mi ha mancato Meno male Allora Adesso Altra posizione di vantaggio Ah ragazzi Se mi arrivano un attimo Eh Allora Mettiamola qua Ma le granate Ah E con granata frammentazione Bella Bella di mamma Vieni Vieni Ok Vieni Vieni Willy Ok Mina di merda Sì ma aprilo l'occhietto Ok Altra posizione di vantaggio I colpi Madonna Madonna Ok Altra posizione di vantaggio Dai Leon Dai Leon Dove cazzo devo andare Leon Questo sto aumentando il passo Sbaglio Minchia Ce l'ho le costole Bastardo Ok Allora Va bene Va bene Dove sei Willy Willy Dove cazzo è William Will Ok Oh Paverda Cazzo non ho neanche Un'arma secondaria Mi fa malissimo Vabbè La roba per curarmi ce l'ho Fa niente Fa niente Fa niente Adesso mi curo Mi curo subito Mi prendo un'erbetta verde Ok 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 E mi arrivano Aspettate ragazzi Che un attimo Arrivo subito Che tolgo quali notifiche Se no non mi concentro Ok ragazzi Ho tolto le notifiche Al cellulare Perché se no Veramente impazzivo Perché mi sono dimenticato Di mettere il silenzioso Io qua intanto Sto finendo i colpi del pompa Ragazzi È dramma È dramma totale Allora Dove sei Will Will Però lo senti Che ti faccio male Lo senti Che ti faccio male Ok Posizione di vantaggio Molto bene Allora Prendiamo intanto La rossa Che la combiniamo Con La verde Dai Will Dai Will Che non c'ho tempo Da perdere C'ho impegni Ma fammi vedere L'occhietto Ho bisogno di vedere L'occhietto Oh Finalmente Ragazzi Vabbè Dai Non è andata male Non è andata male Pensavo peggio Pensavo peggio Ciao Will Tanto controllo Che vada tutto bene Ciao Will Tanto ci vediamo Tanto ci vediamo presto Tranquillo Che proprio ci rivediamo Si sa A voglia che ci rivediamo Qualcuno mi sta osservando Ok ragazzi Qualcuno ci sta osservando Chi è Lo sappiamo Noi lo sappiamo Comunque Chi è Allora Aspettate che Siamo un attimo Qui Così Ok Ci siamo Beh dai Non è andata male Pensavo Pensavo Peggi Insomma Mi ha danneggiato Solo una volta Considerato che appunto È parecchio Che non capisco Perché questo Non li posso aprire Considerato che è parecchio Comunque Che Che non ci gioco Devo andare di qua No Non mi pare No infatti Ah qui c'è l'erbetta Mi avevo dimenticata Allora Curiamoci Perché comunque Infatti vedete Ero in un normale Ma un po' spizzicato Ecco Ok Adesso Dobbiamo andare Se non ricordo male Nelle fogne Ecco Punto L'altra leva Tac Vabbè Questo è un must Ogni volta che c'è una leva Le foglie dell'imperatore Ce l'insegna L'altra leva Ok Ponte mobile Intanto io Ragazzi Sapete che controllo Sempre che vada Tutto bene Tac 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 Baule 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 Safe zone Safe zone Safe zone Eccoci Allora Qui abbiamo una bella Safe zone Un bel marsupilami Tutto mio Perfetto Che schifo Comunque non fa Allora Lascio giù Questa Questa E faccio Le Punizioni Per la pistola Che scarseggiano Perfetto Ok Cosa si faceva Con la polvere Gialla Aspettate un attimo Che voglio provare E andiamo I colpi Per il pompa Ma grazie Ma a sapere Li facevo prima E non mi ricordavo Ragazzi Poi Guarda che c'erano Le istruzioni Se non ti ricordavi Perché non le hai lette Perché non c'avevo voglia Semplicemente Non c'avevo voglia Abbiamo salvato E adesso Io direi Di andare Nelle fogne Dove dovremmo anche Incontrare La nostra Patonza Credo Non lo so Non mi ricordo Se adesso Eccomi scusate Si era spenta La webcam Non so come mai Vedete perché Tengo sempre D'occhio OBS Allora Qui chiaramente Non abbiamo La tessera E noi sappiamo Bene il casino Che dovremmo fare Per recuperare Sta tessera Ma poi Mica Ma sfondalo Oh Oh Ciao Cagnonino Ma quanto sei carino Tu Oddio Mi vuole mangiare Mi mangia Mi mangia Mi mangia Mi mangia Mi mangia Mi mangia Ma dai Vuole solo Le coccole No Non voleva Le coccole Eccola qui Chi sei Sto cazzo Sto cazzo Ecco C'è una cosa Che non mi è mai piaciuta E mettere in mezzo I cari Perché Lasciate di stare Abbassala Eccola qua Ma non è vero Mi scusi Grazie Ancora Buona bestia Ma vaffanculo Che succede qui Un casino Informazione confidenziale Dove va Ma va a cagare Già da questo Leon Per il tuo bene Smetti di fare domande E vattene da qui C'è una cosa Lei gliel'ha detto Levati dal cazzo Che qua la situazione È un po' grave Ma Io bella Cosa pretendevi Ehi Non abbiamo finito Giusto Segui la Leo Seguiamo la pattonza Beh È arrivata Ada È arrivata la nostra Ada Wong La nostra Mercenaria preferita Nella che se ne dica A me il personaggio di Ada È sempre piaciuto molto Perché Non l'ho mai vista Come una manipolatrice Ma L'ho sempre vista Come Semplicemente Un personaggio Che fa il suo lavoro Ma che non ha mai tentato Di nuocere A Leon Cioè anche nel quarto L'avete visto Lei Lo ha aiutato Come poteva Minchia Lo ha Se lo ha aiutato Lui Lei non Quando c'è Quando le loro strade Si incrociano Lei Non Non vuole mai Che accada qualcosa Qui non c'è corrente Che accada qualcosa A Leon Quindi non l'ho mai vista Come una manipolatrice Ma semplicemente È una persona Che fa Un lavoro diverso Dal suo Ehi Allora Non posso crederci Un essere umano Sì Per ora Ciao umano Ciao umano È abbastanza Siamo gli unici Ancora vivi No No Ce ne sono altri Ah Buona notizia Credo Sì A meno che non stia Aiutando Irons Irons Il commissario Irons È ancora qui Chi lo sa Spero sia finito In pasto a quelli Che vorresti dire È lui lo stronzo Che mi ha chiuso qui Beh avrà avuto Le sue ragioni No perché è lo stronzo Leon Eh ma lui non lo sa Stavo per pubblicare Le sue porcherie Penso che io Avrei fatto lo stesso Chi è? Ehi Facciamo un patto Tirami fuori E ti do questo È l'unico modo Per uscire dal parcheggio Fidati Scusa Non posso farlo Devo parlarne col commissario Ecco questa è una cazzata Leon ma scusami Siamo entrambi Che cazzo dici Questa è una cazzata Perdonatemi Diciamo uscire Merda Arriva Cosa Chi arriva Eh Dai non fare lo stronzo Ne avrai bisogno Tirammi fuori da qui Cazzo È arrivato il nostro amico Ciao Ciao Tyrant Beh il Tyrant ragazzi Ale Cioè tutto perché Ora è che non si poteva aprire Perché mancano i circuiti Ma Leon Ma che cazzo dici Devo parlarne col commissario Ma sei scemo Cioè questa è stata una grande cazzata Perdonatemi ragazzi Sono io Metti via Ma questa poi come cazzo fa Stare con gli occhiali da sole Successo in fretta Ti ho detto di andarmene Ma come cazzo faccio ad andarmene Trova come uscire Leon C'è poco tempo Poi parleremo Mi chiamo Ada Ok Ok Allora Dobbiamo Recuperare la chiave Ecco questo è l'attrezzo Che ci serve Per la libreria Ecco qui ci servono i circuiti E anche l'attrezzo per Ecco qui ci sono Vabbè I componenti Lo so dove sono Almeno mi dovrei ricordare Ok Dobbiamo cercare i componenti Del quadro elettrico E ci abbiamo già in giro Il Tyrant Perfetto Io veramente Ho già l'ansia per quando comparirà Perché ti sarà attaccata al culo Ed è una cosa che non sopporta E non ti fa ragionare Ecco questa cosa secondo me hanno sbagliato Perché ok vuoi mettere il Tyrant Va bene Vuoi metterlo in maniera figa Ma se vuoi metterlo come nel gioco Perlomeno Porco cane Fallo come nell'originale Nell'originale compariva solo in determinati modi E comunque lo potevi buttare giù Allora io qua devo andare un attimo qua prima Lo potevi buttare giù almeno Porca troia Qui Non va giù Manco per il cavolo Manco per niente Allora Ecco Prendiamo questa Che ci serve Perché se adesso io la esamino Vedete Ticcate taccate Ok C'è una chiave Perfetto Adesso vabbè qua Dice appunto che La chiave si può aprire il bagagliaio Infatti adesso Esco un attimo Perché c'è un componente che mi serve Dentro quella macchina Se arrivano i cani Giuro che mi incazzo Ok Allora Esamina Taccate 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 Schiscia il buttucin Ecco Qua dovrebbe esserci No No è questo qua Sinceramente non è che voglio tanto prenderlo Ci rifletto no Perché questo qua Sì è il calcio ma È quello che Che finissi subito le munizioni Se non ricordo male Ci penso Allora ragazzi Ci penso un attimo Io qua dovevo fare qualcosa Mi pare di sì Però non lo so Mecchia Eh sì perché io devo andare Nella sala del generatore Quindi sì Giusto Perché se no andiamo ad analizzare Il documento Esatto Alcuni dovrebbero trovarsi Nella sala del generatore E qui ci sono i cani E qui ci sono i cani E io scappo Perché anzi Io li faccio fuori Finché sono Finché sono nelle celle Tre colpi Uno Due Tre Uno Due Tre Ok Poi naturalmente Eh Infatti fuori Finché erano nelle celle Che poi io qua Non mi ricordo Dopo arrivano anche i leaker Porca Allora Io qui posso fare qualcosa Era questa? Eh sì Che ragazzi Non è che me lo ricordo Cioè Tante cose non me le ricordo E sono sincera Ok Questa porta Dovrebbe esserci la sala del generatore Esatto E qua dovrebbe esserci Il componente che mi serve Allora intanto scartiamo Questa che non mi serve più Esaminiamo La scatolina Ma chi è poi il deficiente Che Che ha portato Qua Ok Questo è il componente elettrico Allora io devo Posso riattivare qualcosa Qui Sì Mi pare che Potevo riattivare la corrente Andiamo a vedere Sì infatti Guardate il salvataggio Quindi Allora Qui adesso io ve lo dico Vado a cazzo Allora Uno A culo L'ho fatto completamente a culo Ok Dai che adesso arrivano i cani Ecco guarda Infatti già li sento Uno Ok Tre colpi e van giù Abbiamo constatato Ho fatto i colpi per la pistola Per adesso ce li ho Usiamoli Perché Adesso comunque corro Ecco Uno Due Tre Ok Se arriva lì Che giustamente scappo Di qua c'era qualcosa Ah sì Ah sì Qua devo stare Devo prendere la chiave di quadri qua Oh Se il cane mi apre la porta Giuro che mi incazzo Allora Dove era la chiave di fiori Dove era la chiave di fiori Santo Dio non me la ricordo Allora ragazzi Adesso mi faccio un giro Appena trovo la chiave di fiori Ce ne andiamo La chiave di quadri Anzi Quindi vabbè Se c'è quella di quadri o quella di fiori Non mi ricordo Ce ne andiamo Ok L'ho trovata E mo corri Leon Corri 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 Meglio il cane Meglio il cane Quasi quasi Ciao bello Ciao Belessa Ciao ragazzi Allora ma no Fanculo La leaker Oh Ah bello E come salti E quanto E quanto saltano Ma aprono anche le porte Sti cani Sono come dei fottuti Veloci Raptor Non mi importa chi c'era Io me ne vado Ciao belli Ciao belli Ciao belli Che bello Che bello Ok ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Per Dio Ok Qui adesso siamo di nuovo Nella stazione di polizia Quindi a che cazzo è servita la cosa dei medaglioni Ecco se devo trovare dei difetti Delle cose A che è servita tutta Per arrivare nelle fogne Ma non per scappare Ma siamo semplicemente andati nelle fogne E abbiamo trovato Roba Ok Tacchete Tacchete Che servono Per Dio Anche questi Servono Anche perché Allora Qui c'è il fusibile Che mi serve Non c'era la magnum Qui Mi ricordavo la magnum A meno nell'originale c'era la magnum Ovviamente mi sbaglio Non mi pare che qui ci sia nient'altro Vabbè Qui c'è l'erba blu Prendiamola giusto per Per par condizio Qui c'è un uccello Allora Questo adesso lo mettiamo via Questo lo mettiamo via Questa la mettiamo via E anche Questa Perché per adesso Proprio la spalla normale Non ne ho più Ecco Due per fare Le punizioni Per la magnum Adesso la magnum Non ce l'abbiamo Diamo Una salvata Che è cosa Sempre cosa Buona e giusta E io direi Di ripartire Perché adesso Abbiamo la chiave di quadri E Ecco Già Oh ma Oh Vaffa culo Headshot Questo deve essersi Vado a cagare Ma che cazzo Altro headshot Ve la siete cercata Avete fottuto Con la persona sbagliata Ecco Questo è quello Che si sta mangiando Ancora quel disgraziato Ma scusa Ma ti sembra il modo Ma il coltello Non ce l'ho più Ah Cazzo che è sparito Pezzo di merda Bastardo Vaffa Culo Vaffa 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 Culo Che spaventi In male Regà Mamma E quando non ti ricordi Le cose Oh signore Non se ne può più Oddio Il mio amico Non riesco a darti Il colpo di grazia Vabbè Questo non muore Io spreco i colpi Che mi servono Allora La chiave di quadri Adesso Dove la dovevo usare Io sono qua Praticamente tornata indietro Ah no Adesso io Dovrei Oh Signora Ma Le sembra il modo Di entrare E sparare le calcagne E basta portarli giù In modo che non cammino Se non sbaglio Qua C'era un punto In cui Perché devo spegnere L'incendio E c'era un punto In cui Potevo usare La manovella Me lo ricordo benissimo Ecco infatti qua Perché adesso Devo andare su A spegnere l'incendio E troppo Che arriva il Tyrant Che bella La cosa Che libidine Oh Marvin Trasformato Oh caspita Merda Mi dispiace Marvin Devo spararti Dei calcagne Metterò fine A tutto questo Glielo provetto Ah povero Marvin Ok Allora Va bene Devo lasciarmi Due buchi liberi Perché qui Devo trovare Una cosa Che mi serve Ok Le munizioni Non le lascio qui Neanche se mi ammazzate Perché adesso Qua io Trovo Una cosa Che mi serve E Direi che posso Anche Prenderla E andarmene Dov'è che stava Ecco qua Mi serve questo Che occupa Un fottio di spazio E adesso io credo Anche lì Però io poi Qua devo ripassare Quindi è quasi meglio Davvero farli fuori O perlomeno A zoffarli Non gli partono Le gambe Ok Ah Sei morto? Perché io poi Qua Devo passare Dopo E Oh Gli è partita la gamba Quello Perfetto All'asiatico Sei tornato Amico mio Mi sei mancato Un sacco Vabbè Questo è a zoppato Quindi non credo Che mi Vabbè Ragazzi Me la vedrò Quando sarà il momento Non c'ho voglia Non c'ho tempo C'ho da l'ass Che tra un po' Mi arriva il Tyrant Che crea Rottura di Kabbalizi Che dovremmo scappare Ad essere a manca Intanto io controllo Sempre OBS Mi distraggo Non ce la faccio È uno stress Incredibile Oh Deolta Ecco Qua Oh Sta scala Probabilmente Sarà desistita 45 anni Ad Azkaban È dovuto arrivare lì Per distruggerla Che poi Come cazzo ha fatto Era perfettamente sana Sta scala Come ha fatto a rompersi Boh Boh Non si capisce Non si capisce Ragazzi Non si capisce Non si capisce Un cazzo Sti giochi Allora Io adesso Prima Perché la manopola È quella Ma Vedete Anzi Ve lo faccio vedere Per tutti quelli Che non conoscono il gioco Vedete Sì adesso La 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 apro Vedete L'acqua E scende da qui E non va bene Noi dobbiamo spegnere L'incendio Quindi di conseguenza Dobbiamo scendere E adesso Lo facciamo Subito Che cazzo Ah si è la porta Che Allora È tanto piantine Che non le lascio qua Neanche se Aia però Caspita Ah no Oh no Non devo prendere Nient'altro Ok Vabbè Limite vale Che vanno a scarto Il coltello Allora Voi state buoni Lì che io Faccio quello Che devo E io Mi lascio qua Tranquilli Quatti Quatti Vabbè No anzi Mi faccio fuori Perché voglio vedere Cosa c'è lì dentro E usiamo il pompa Valla che l'ho usato poco Ecco Tac Tac Eri Track La testa Ti faccio saltare Aspetta Carichiamolo Prima che Ok Vediamo un po' Cosa c'è qua Vediamo c'è qualcosa Che mi serve Polvere Polvere da sparo E faccio già Le munizioni Per il pompa E le combino Vediamo fatto bene A venire qui Qui Cosa c'è Ah ecco Vedi che dovevo venire qui Dove venireci per forza La chiave di fiori Porco cane Ok Non so se salviamo Continuamente Che tanto Qua che se ne frega Allora ecco Appunto Adesso lascio giù L'ingranaggio Che però Non mi serve E una No La gemma la tengo Perché adesso vado a prendermi Quello che mi serve Per recuperare La magnum Ok A voi vi lascio qua Oddio adesso arriva Adesso arriva Già c'ho l'ansia Perenne Adesso arriva Ok Adesso spegniamo Sto gazzi incendio Dovevano fare Come l'originale Che Allora Quello originale Con l'ion Sette colpi Cinque colpi di pompa E lo buttavi giù Con Claire Che aveva lanciagranate Quattro granate E lo buttavi giù Questo non casca Ed è una cosa Secondo me Sbagliata Ok Dai Ecco che arriva Ecco che arriva Ecco qui Voglio vedere se riesco a fargli saltare il cappello Mi voglio togliere la soddisfazione Il cappello Ce l'ho fatta Gliel'ho fatto saltare Porca Sul serio Ma ha fatto le scale Ma manco nei film di Snyder Sentite i passi sopra Che rimbombano E mi sta cercando Il bastardo Allora Mamma mia Che ansia Che ansia Perenne Allora Ecco Ma serve questo Perché voi direte Ti ho fatto tutto questo casino Per un cofanetto C'è il suo perché Ecco A me serve questo Che se io faccio esamina Tacchete Se vado nell'ufficio Stars Con questa Posso prendere Il Il coso Qui c'è qualcosa che mi serve La magnum C'è qualcosa che mi serve Sì Le munizioni Oddio Sentite i passi Sentite i passi Cosa c'è qua Cosa c'hai tu Oh Olvele da sparo Lascia fare I tempi d'oggi Va bene dai ragazzi Cuor di leone È solo un tyrant È solo un tyrant Cuor di leone Cuor di leone Dai Dai Forza ce la facciamo Ce la facciamo È solo il tyrant L'ho affrontato 25 volte È qui eh È rimasto lì Di aspettarmi L'infame Allora Adesso andiamo subito All'ufficio Stars Ok Andiamo subito All'ufficio Stars E vado a prendere subito La magnum Allora L'ufficio Stars Devo passare Per forza Sentitelo È arrivato il leak Grazie Come se non avevo Già abbastanza Preoccupazioni Come siete bravi Voi che avete fatto Questo gioco Allora Qui c'è la chiave di fiore Aspettate un attimo Visto che ci sono Entro qua dentro Ok Questo che mi serve Lì ho un prendilo Però Ma porca Sti comandi No veramente Ok Ci mancava anche Oh Oh cazzo Oh marda Bastardo Ma non ci posso credere Si è messo Si è messo Davanti alla porta Ma io non ci posso Credere Ma veramente È arrivato il Tyrant C'ho pure gli zombie Grazie Come siete carini Mi ero dimenticata Di quanto è stronzo Questo punto Arrivati A questo punto Del gioco Ok Guardate Poi io che giro Dell'occhio devo fare Per andare a prendere Una Eccolo qua Ce l'ho proprio Alle calcagna E io ho pure Sbagliato strada Ce ne sono due Non uno Ma due Grazie gioco Come sei caritatevole Nei confronti Del tuo giocatore Vai a fare in culo Porca troia Ragazzi Eccolo qui un altro Grazie Grazie Molto umano Porca puttana Si è riempito di leak Sto cazzo di posto Merda Poi non ho neanche più Non ho neanche più C'è tutto nel baule Quindi devo Ok Mamma mia Sto pezzo Mi ero dimenticata Quanto è stressante Raga Dio se mi ero dimenticata Quanto è stressante Piglia sta magnum Leon La lightning hawk E andiamo Allora Questa è la lettera Di Chris A Claire Come va in quella Svecchia schifosa centrale Vi rompe le palle Come al solito Ok Si qui Immagini Cos'è potuto succedere Questo sombrellone Bianco e rosso L'Europa è una figata Altri sei mesi A tutte queste baule Ci penso io Gilles e Claire Prova a contattarti Dille che sto bene Ma che bello Bene Ok Sto malissimo E questo è qui E questo è qui Dai Dai andiamo 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 No vabbè Ecco fatto Perfetto Sei un bastardo Ma io ti sparo Ma porca puttana Merda Vai affanculo Allora Chiave di quadri Si guarda Ci entro giusto per Avere un po' di respiro Un po' di respiro Minchia Ragazzi Sono morta È ufficiale Sono morta Sono morta Vaffanbrodo Anche perché Non ci torno più Lì sotto Ragazzi Sono morta Sono morta Non mi ricordo Neanche dove l'ho salvato Perfetto Ah no Ok Essendo che sto giocando In modalità facile Non recupero Meno male va Allora A me serve Il baule Prima di fare Anzi Guarda Leon Anche perché Faccio sto lavoro Allora Questa adesso la posso scartare Perché mi fa combina Ah giusto No perché Ecco Ok Finché non c'è il Tyrant Nei paraggi Si stiamo qui E poi vado un attimo Al baule Mo col culo che ho Arriva Mo col culo che ho Arriva Dai Spingi Leon Ok Perché devo andare a prendere L'ingranaggio Perché purtroppo L'ho lasciato nel baule Allora Questa dovrebbe essere Aspetta che c'è una C'è una save zone Dove lui effettivamente Non può venire No è chiusa Che palle Non è come con Claire Si vabbè Comunque questa dovrebbe essere Una save Questa dovrebbe essere Una save zone Lui non dovrebbe Poter venire qui Allora Io adesso prendo Questa Che faccio un po' Di colpi Per il pompa Che schifo Non fanno Mi curo Con lo spray E recupero Anche una miscela E recupero Anche quel cazzo Di Di ingranaggio Che mi serve No sto andando nel panico Adesso mi devo calmare un attimo Sto andando un po' Nel panico ragazzi Vi dirò la verità Perché io volevo anche salvare Per fortuna posso farlo Non so neanche dov'è questo Adesso me lo ritrovo davanti Vedrete col culo che ho Meno male che ho già spostato Tutto lì nella biblioteca Adesso prendo Sti cazzo di componenti Dove cazzo è questo Non lo riesco Neanche a vedere Ma basta di sui passi A metterti l'ansia C'è una cosa assurda Ora capite Perché ho voluto Fare fuori Tutti gli zombie Qua Perché fare questa zona Con il tyrant Le calcagna E gli zombie Che ti danno la caccia È impensabile Questa cosa del tyrant Non la dovevano fare Semplicemente Non la dovevano fare Perché Va bene Sì Volevi mettere Ansel nel giocatore Ok Perfetto Minchia Ce l'ho Proprio alle spalle Credo La piantina La recupero dopo Leon entra Solo lui qua Non può entrare Perché io qui Devo lavorare Quindi Lui qui adesso Non entra Mettiamo qua L'ingranaggio Dopo scarto Anche la chiave Di fiori Oh madonna ragazzi Ma che ansia Per è Non vado a andarmene Da sta cazzo Di stanza Ma è che questo Ce l'ho alle calcagna Fino alla fine Ok Allora adesso Devo andare a prendere Un'altra cosa Ecco qua Però non è quel Che devo prenderla Esatto Ma poi Chi cacchia Ha messo Un componente Guardatelo lì Dov'è No qui chiaramente Manca qualcosa Ma forse devo riprendere Come una scema Forse devo riprendere La cosa Probabilmente Che non mi ricordo E poi sono anche In predallansia Quindi Abbiate pazienza Ok Allora Tac Mi sto perdendo No anche no Grazie Mi sono un po' persa Ragazzi Vediamo la verità Perché Mi sta venendo Un pochino Mi è venuto un po' l'ansia Vediamo la verità Allora Questo non mi interessa Ecco Devo recuperare questa Ok E Non credo Di doverlo mettere qui No perché Qui ci vuole un altro pezzo Devo metterlo su Perché Che casino Eh vabbè Allora Come ho detto Questo secondo me È uno dei migliori remake Mai fatti Ah ecco Perché non me l'ha fatto Allora intanto scartiamo Questa che non mi serve Sì la quadri La chiave di quadri ragazzi Allora qui adesso Devo mettere questo qui Se non sbaglio Esatto Exactamont E adesso devo andare giù A mettere L'altro pezzettino Dall'altra parte E poi Devo Scappare Più veloce Della luce Ecco Ci mettiamo Quello piccolo Ma guardate Dove l'hanno messo Ma chi è così ritardato D'averlo messo lì Almeno lì La sala del generatore Lo comprendo un po' di più Ma chi cazzo ha messo Non doverci scrivere un rapporto Sì vabbè lì Ho nato le auto battute Becere Cioè ma Che cazzo ha avuto L'idea di metterlo Ma Mamma mia Sentito Ho i passi Mettono Un'ansia Ragazzi Ma un'ansia Allora Esamina Se vedete Sono un po' Dai Ok L'altro lo recupero Poi Nel baule Che c'è lì Nelle fogne Perché adesso Di certo Non torno in basso La piantina Fa niente Pazzo Che mira di merda Poi che tengo Raga Ragazzi Mi sta avvenendo Un dubbio Ah no Ah no È giusto È giusto È giusto La serratura è qua Dai Leon Per Dio E per la Madonna Vai via Asiatico Non è razzismo Ma devi andare via Ok Allora Io adesso Da qua Devo tornare Devo tornare Adesso Ragazzi Se non succede niente Penso che ci rivediamo Direttamente Alla prigione Che devo ricordare Come il cazzo Ci si torna Ale Perfetto No anzi Ragazzi Sapete che vi dico Sapete che vi dico Sapete che vi dico Io adesso vado a salvare E Adesso arriva la macchinetta E ci salutiamo Perché Mi sono resa conto Che non mi ricordo Se lì c'è Da Kendo C'è la safe zone Quindi ragazzi Io direi Che l'appuntamento di oggi Si conclude qui Adesso salvo E noi Ci rivediamo Alla prossima puntata Mamma mia Ragazzi Ma che fatica Che ansia Alla prossima puntata